Nessun trionfalismo da parte di Matteo Salvini, ma solo il pragmatismo del giorno dopo, alla luce di un successo elettorale che ha premiato i candidati sostenuti dalla Lega Nord alle elezioni regionali, anche al di là della consueta geografia leghista. Il carroccio cresce ovunque e scavalca Forza Italia, diventando il primo partito del centro-destra. Con oggi più che una persona, perché cosa fa Salvini è l'ultimo dei problemi, ieri gli italiani che hanno votato hanno deciso che il programma alternativo a Renzi è quello della Lega. E quindi noi siamo aperti, disponibili a dialogare e a confrontarci con tutti, però ieri gli sconfitti sono i tremebondi, quelli che cambiano idea. Auguro un approfondito e proficuo dibattito a Forza Italia, e i voti comunque Berlusconi ancora ce li ha, dove più dove meno però ancora ce li ha, e quindi vogliamo costruire non tanto con chi è andato a votare ieri, quanto con chi ieri non è andato a votare. Questa è la scommessa della Lega. Ma Salvini sottolinea anche l'importanza dei voti ottenuti al Sud, a partire proprio dalla Puglia, dal 2% ottenuto dalla lista Noi con Salvini, sottolineando contemporaneamente in maniera negativa la prova del centro-destra. 40.000 voti in Puglia, dove ci siamo presentati per la prima volta nella storia dell'uomo, significa che ci sono 40.000 donne e uomini da cui cominciare a costruire qualcosa di buono. Lì il centro-destra in Puglia ha dato prova del peggio di sé, evidentemente.